E' in atto la strategia europea per eliminare le disparità di stipendio. Il gender gap nelle professioni c'è. Cosa fa Gol per le donne? Per le donne stiamo cercando, visto che ci siamo resi conto da tempo che le donne medico-curiste sono aumentate, quelle di poter conciliare la vita professionale con la vita familiare e quindi cercare di far sì che le donne possano svolgere a pieno in ogni campo la loro propria funzione. Anche nel campo professionale la possibilità di poter accedere meritocraticamente alle figure apicali. Perché associarsi a Gol? Che servizi fornite? Gol ha il piacere di poter raccogliere tutti quanti, sono in sintonia con la sua mission, la sua mission è quella di valorizzare la dignità professionale del medico-curista e nel contempo di dedicare una particolare attenzione al paziente-persona. Il partecipare a Gol non è una partecipazione formale, ma è una partecipazione con l'invito che può essere attivi e dare iniziative sempre nuove, l'aggiornamento professionale, informazione in campo presidenziale, in campo legale, in ogni sorta di azione che implichi l'attività professionale e possa mettere chiunque nella possibilità di poter pensare e fare. organizzate webinar, organizzate seminari, convegni, corsi di aggiornamento e anche ogni anno un congresso. Quali sono i temi trattati? I temi trattati sono sempre quelli inerenti al territorio, sono temi pratici. Nell'ultimo congresso abbiamo trattato le sfide del quotidiano anche attraendo l'esperienza dalla pandemia. Non ci siamo mai fermati, cerchiamo di non fermarci mai, cerchiamo di imparare, abbiamo sempre bisogno di maggiore conoscenza umana e scientifica e siamo come sempre disponibili e aperti alla collaborazione con tutti, sia con le figure mediche oculistiche che di altre branche specialistiche, con le associazioni dei pazienti, con chiunque abbia il desiderio di una sanità di tipo universalistico che possa aiutare tutti. Il concetto ultimo di One Health è quello che ci sta impegnando al meglio. È importante fare ricerca, ma come ha detto lei è importante essere al fianco anche dei pazienti. Le maculopatie oggi si possono curare meglio? Qual è la problematica aperta? Stiamo cercando di intercettare i pazienti per fornire loro una maggiore conoscenza della patologia della maculopatia e cercare di aiutarli ad arrivare prima possibile a una diagnosi precoce che possa permettere una terapia pronta ed efficace. Abbiamo rispolverato il test di di Amsterdam, semplicissimo, apparentemente banale, ma poco conosciuto e dandone ampia diffusione, insegnando quindi a fare questo esame senza fare terrorismo, ma al fine di poter arrivare prima possibile. Abbiamo trovato collaborazione con l'associazione dei pazienti, con l'ordine dei medici, stiamo cercando di attivarci anche a livello delle istituzioni pubbliche in maniera da poter diffondere al meglio combattendo anche l'infodemia. Voi come associazione andate anche nelle scuole ad informare sulla prevenzione, sono aumentate le patologie dei nostri occhi nelle età pediatriche? Aumentate probabilmente no, sono meno considerate.